In questo prossimo 28 ottobre forse sarà eletto presidente del Brasile il signor Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro ha come ascendenza l'81% di ascendenza italiana. Tra i 16 quadrisavoli di Jair Bolsonaro, 13 erano italiani. Dalla sua parte paterna il suo bisnonno si chiamava Vittorio Giovanni Bolsonaro, nato ad Anguilara Veneta nel 1878. La sua bisnonna si chiamava Filomena Lodia, dopo detta Lucia d'Agostini, è nata nel 1886 nel comune di Masi, Padova. Quindi in questa linea Bolsonaro è totalmente Veneta, Padovana, di cui i 16 quadrisavoli parliamo di quattro quadrisavoli veneti. La mamma, la madre di Jair Bolsonaro si chiama Olinda Bonturi, è una signora di 91 anni che vive nello stato di San Paolo e figlia di due italiani nati nella città di Luca. Quindi nella parte materna di Jair Bolsonaro sono entrambi i noni materni lucchesi, nati nella città di Luca, si chiamavano Guido Bonturi e Argentina Pardini. Guido nato nel 1893 nella città di Luca e Argentina nata nel 1892 nella città di Luca. Quindi della parte materna il 100% toscano, lucchese. Quindi parliamo dei otto quadrisavoli, tutti toscani, perché dopo l'ascendenza paterna tutta toscana. Bolsonaro ha un bisnonno tedesco di Hamburgo, Karl Hintze, e la bisnonna chiamata Lucia Caliò, figlia di un calabrese di spezzano albanese, quindi di probabile lontano sangue albanese, chiamato Gaetano Caliò, nato nel 1859 a Spezzano albanese, e una quadrisavola chiamata Maria Rodriguez di probabile origine luso-brasiliana, quindi portoghese, però di cui non si ha una certezza, è una cosa ancora da studiare. Pertanto parliamo di un'origine prettamente italiana, del probabile futuro presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, Toscana al 50% e un'altra percentuale di circa 31% veneta, quindi parliamo di un brasiliano con una forte origine italiana. Vediamo come sarà eventualmente, se vince il ballottaggio adesso il 28 ottobre, come sarà questa presidenza e quale sarebbero i legami con l'Italia, se questa ascendenza italiana avrebbe qualche influenza nei rapporti tra il Brasile e l'Italia. Noi della comunità italiana in Brasile ovviamente speriamo che questo possa significare un aumento e un miglior rapporto tra il Brasile e l'Italia, e l'Italia. Non è il primo, ma sarà il primo elettore, è così? Appunto, in Brasile noi abbiamo avuto già nel passato tre presidenti di origine italiana, il primo è stato Pasquale Ranieri Mazzilli, figlio di due lucani, in questo caso della Basilicata della provincia di Potenza, comune di Montemurro, della famiglia Mazzilli, però lui è stato presidente provvisorio in due opportunità, una nel 61 e l'altra nel 64, per assenza del titolare, insomma è stato un periodo molto corto. Il secondo è stato un presidente militare, quindi un dittatore, si chiamava Emilio Medici, dal 69 al 74 se non mi sbaglio, però ovviamente non è stato un presidente non eletto dal popolo. Il terzo fu Itamar Franco nel 92 al 94, che era vicepresidente, che assunse la presidenza brasiliana perché il titolare, Fernando Collor, fu impedito dal Parlamento, ha subito un impeachment del Parlamento brasiliano, però ovviamente non è stato eletto alla carica di presidente, quindi se vince il prossimo 28 ottobre, Jair Bolsonaro diventa il primo cittadino, il primo presidente del Brasile eletto dal popolo e di origine italiana.